buongiorno a tutti mezzogiorno scienza lo sapete il format che ci ha consentito di dialogare con alcune delle più grandi aziende del nostro paese per comprendere qual è lo scenario della ripartenza dopo la pandemia la diffusione del covid 19 ha rappresentato uno spartiacque determinante per il cambio delle abitudini relative alla popolazione planetaria al cospetto di un mondo che è stato oggetto di una vera e propria rivoluzione digitale abbiamo provato ad analizzare la situazione quella che oggi dal punto di vista delle imprese ma quali sono le prospettive economiche e sociali per capire se siamo pronti ad impegnarci e a garantire un ambiente più sano e sostenibile per la vita di noi tutti che cosa abbiamo imparato negli ultimi mesi nei mesi che sono stati così difficili e quindi per parlare dei programmi messi in atto nel presente nell'immediato futuro città della scienza ha pensato di incontrare quindi di fare un percorso appunto incontrando cinque delle realtà leader nel settore appunto della nostra impresa delle aziende italiane chi abbiamo incontrato nella parte specie allora nel corso degli ultimi appunto cinque appuntamenti abbiamo incontrato microsoft divisione education abbiamo fatto con microsoft un dialogo costruttivo relativo alle soluzioni innovative proposte in merito alla formazione e alla didattica rispetto appunto a quello che uno dei più grandi colossi della produzione di software mondiale ha prodotto anche in riferimento all'esperienza museale e alla diffusione della cultura scientifica abbiamo poi intervistato la dottoressa valentina mercati del gruppo aboca una nota health care company che produce prodotti naturali e biodegradabili che si prendono cura del corpo e della salute delle persone rispettando anche l'organismo e l'ambiente una azienda che dà molto molta importanza alla realizzazione di dispositivi medici in linea con l'economia circolare e che quindi contribuiscono così al miglioramento del bene comune inoltre abbiamo incontrato il centro regionale trapianti campania perché dopo la diminuzione dovuta alla forte emergenza causata appunto dalla pandemia è ripresa la promozione della cultura della donazione un impegno che è fondamentale a tutela dei pazienti fragili perché lo sapete tutto il trapianto di organi per alcune malattie gravi è l'unica cura che permette di sopravvivere e migliorare la qualità della vita e ancora abbiamo incontrato ericsson edizioni area educazione la casa editrice che ha sede a trento che è un punto di riferimento in italia perché si occupa di didattica inclusiva integrazione delle persone disabili sostegno per i bisogni educativi speciali e le difficoltà di apprendimento oltre che a psicologia e lavoro sociale un impegno importante che ericsson è riuscita a garantire anche appunto durante il periodo della pandemia e quindi durante il periodo di emergenza infine l'ultimo appuntamento è stato con avio aero azienda aerospaziale si è parlato in quel caso molto della campagna dei cervelli dove nasce campania engineering center che punta allo sviluppo sostenibile grazie alla collaborazione tra partner strategici e in questo caso il coordinamento tra scienza e tecnologia applicata ha fatto sì da dare un grande impulso allo sviluppo sostenibile in questo caso sì alle nuove tecnologie ma al tempo stesso sì alla riduzione della emissione di co2 e quindi ecco questo percorso che mezzogiorno scienza ha fatto con queste belle realtà è stato molto importante interessante per dare appunto una visione su quello che dicevo essere lo scenario sociale ed economico insomma di questo periodo e ci ha dato anche una bella speranza per ecco ritornare anche a settembre e da ottobre da settembre in poi a poter immaginare di incontrare altre aziende altre imprese che possano appunto raccontarci i loro programmi e possono quindi anche raccontarlo a voi nel contempo però queste stesse interviste saranno riprogrammate nel mese di agosto e sui nostri canali social ovviamente sui canali social di città della scienza però l'appuntamento è rimandato a partire da metà settembre con nuove interviste a nuove grandi imprese per cui seguiteci ancora e a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti